Buongiorno Non è foto, non è foto Buona gara a tutti Piano, piano, piano Piano, piano, piano Piano, piano, piano Ecco il vincitore della gara con questo gara numero 4, numero 2 De Guadalupe ha subitato Nannuola Angelo dalla Trecchia di Napoli Con il numero 3 Buonavide Giuseppe Superacaputo Siamo 4 Mi chiamiamo a tutta l'associazione G Faccio Runner Grazie a tutti. Grazie a tutti.